Musica Buonasera da Rai Parlamento e ben ritrovati alle parole della politica, la nostra rubrica settimanale dedicata ad una parola che anima o è in grado di animare il dibattito politico ed istituzionale. Questa sera parleremo di famiglia, che è anche una parola che campeggia nel sottotitolo di questo libro di Gianettore Gassani dal titolo La guerra dei rossi, racconti di famiglie e di violenze prima e durante il Covid-19. Ebbene, l'avvocato Gassani è qui con noi ospite questa sera. Buonasera. Buonasera. Presidente, lo ricordiamo, dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani. Nel suo libro Leggiamo, che è stato scritto durante il periodo di lockdown. Come nasce dunque questa idea di raccontare storie di famiglie al tempo del Covid-19? L'appendice di vari libri che ho scritto nel corso della mia carriera professionale, ma ovviamente il lockdown mi ha consentito di concentrarmi di più, di scrivere non più nei ritagli di tempo, sui treni o nelle sale d'aspetto, ma riflettere su quello che è successo negli ultimi anni e in particolar modo su quella pandemia familiare che ha colpito molte famiglie. Questo aumento vertiginoso delle violenze intrafamiliari, si parla del 70%, il 20% più di femminicidi rispetto al 2019, e soprattutto una strage di matrimoni, con un aumento del 30% di separazioni rispetto al 2019 e il 2018. Ciò significa che l'emergenza principale insieme a quella sanitaria e economica è sicuramente quella familiare. Sono dati che impressionano, ne parleremo, ma intanto come è cambiato il suo lavoro, il lavoro cioè degli avvocati matrimonialisti durante questo periodo? Mi sono inventato un nuovo modo di fare l'avvocato, l'ho fatto per strada, l'ho fatto davanti ai supermercati per incontrare le vittime, non le potevo chiamare a casa davanti ai compagni o mariti violenti. Abbiamo fatto la nostra parte, anche noi. E questo denota la necessità anche di confrontarsi tra le vittime e chi può assisterle da un punto di vista legale. Ebbene, sulla parola famiglia ha ragionato per noi il nostro Fabio Antonini. Vediamo insieme il suo servizio, poi lo commenteremo insieme. Famiglia, parola del richiamo quasi ancestrale, il mattone senza il quale, come diceva Aristotele, non esisterebbe la comunità, la polis, il luogo dove l'uomo si relaziona con l'altro da sé. Oggi nella società postmoderna, fluida, imperenne divenire, la famiglia ha assunto forme nuove, nuove geometrie familiari ed esistenziali, ma sempre il luogo nel quale si educano e si formano i propri figli, il nido, insomma, nel quale si cresce insieme sorretti da valori e sentimenti universali, come l'amore, l'affetto e la gratitudine. Ma come in un teatro, la famiglia può diventare anche il palcoscenico, come troppo spesso ci ricorda la cronaca, sul quale si consumano conflitti e violenze. Nonostante la legge sul divorzio, le tante battaglie per la parità tra uomini e donne, siamo ancora lontani, a quanto pare, da un'autentica cultura del rispetto e della responsabilità. Senza contare poi che a pagarne maggiormente le spese spesso sono i figli, i bambini, gli unici, tra l'altro, che non possono nemmeno chiamare a loro difesa un avvocato. Ecco, siamo ancora lontani, dice il nostro Fabio Antonini, da un'autentica cultura del rispetto e della responsabilità. Perché è così, Presidente Cassani? Perché, secondo me, soprattutto la parte del mondo maschile, ovviamente non la maggioranza, ma la maggioranza molto rumorosa, c'è ancora un rapporto assolutamente sbagliato alle confronti e all'altro sesso. C'è un problema sottoculturale. Noi abbiamo abrogato dal codice penale delitto d'onore, ma non dalla cultura di molti uomini, i quali non accettano, in una maniera più assoluta, che la donna dica basta, che tronchi una relazione. Per cui esercito una vendetta, che è, in qualche modo, ereditata da una sottocultura di secoli e secoli di degrado del nostro Paese. Non dimentichiamo che il delitto d'onore l'abbiamo abrogato soltanto nell'81. Io ricordo che studiavo diritto penale, all'epoca, e c'era ancora il delitto d'onore, cioè la possibilità di poter uccidere il proprio parte, quasi sempre la moglie, in fraganza di infereltà coniugale. Quindi con tre anni, praticamente, tutela Cavavi. Questa cosa mi ha molto colpito. Invece è importante dire basta, come diceva lei. Bisogna imparare a stare insieme, ma anche a lasciarsi. Ci vorrebbe un po' la scuola dello stare insieme, la scuola dell'addio. Questo è il vero problema. Basti pensare, però, che purtroppo quando poi le donne dicono basta, spesso il dire basta significa morte, significa vendetta, significa stalking, significa anche tante violenze non refertabili in un pronto soccorso, perché non c'è sempre il gesto estremo, ma c'è la svalutazione, c'è la denigrazione. Quindi poi non parliamo di quelle donne che sono state uccise, il 54% delle donne che sono state assassinate, il nostro Paese negli ultimi anni aveva già sporto denuncia. Questa è una sconfitta del sistema. È per questo che le chiedo se il nostro sistema giudiziario è adeguato a gestire questa fase e quali sono i miglioramenti che il mondo politico istituzionale a suo avviso deve mettere in campo. Io ritengo che sostanzialmente la magistratura italiana è assolutamente adeguata, ma è sotto organico. Mancano 2000 magistrati nella pianta organica. Abbiamo varato il codice rosso, ma non abbiamo aiutato i centri antiviolenza, i servizi sociali, non abbiamo specializzato i magistrati, non abbiamo imposto la specializzazione agli avvocati. Il problema è che si varrano tante leggi per contrastare la violenza in famiglia a costo zero. E noi a costo zero non possiamo andare più avanti. Io mi auguro che il prossimo governo metta nell'agenda politica la violenza di genere come una emergenza tra le emergenze. Una priorità. Assolutamente sì. Nel suo libro ci sono storie di diverso tipo. C'è anche la storia della mamma che denuncia il figlio per salvarlo dalla tossicodipendenza. Cosa significa per lei questa storia? Sì, per me le mamme coraggio, come anche i padri coraggio. Io in questo libro ho scritto a penna, sui fogli di protocollo, con la prefazione, lo voglio dire, di Maurizio De Giovanni, il giudice Valerio De Gioia e postfazione di Adriana Panitteri, che sono dei miei compagni di viaggio formidabili. Ho scritto questa storia della madre coraggio, ho scritto anche storie di omofobia familiare, ho scritto di genitori abbandonici e soprattutto ho parlato di quello che ho visto, ho toccato con mano durante il Covid, quella donna massacrata di botte davanti ai figli, che mi ha scritto un messaggio di notte, io l'ho incontrata davanti al supermercato, e questa donna che a un certo punto ha avuto il coraggio di dire basta e salvare la propria vita a quella dei figli. Ma attenzione, questa donna è stata fortunata, tante altre donne hanno fatto denunce, poi purtroppo si sa come è andata a finire, ma in questo libro, che io ho scritto in maniera molto asciutta, in italiano, non in avvocatese, quindi è un libro per tutti, cinque edizioni, cinque ristampe, in due mesi, ciò significa che anche un avvocato può in qualche modo esprimere dei concetti emozionanti, quindi non siamo soltanto quelli che scrivono codici o manuali. Siamo in chiusura, abbiamo pochi secondi, noi chiudiamo sempre la nostra trasmissione con un pensiero ai giovani. Qual è il messaggio che attraverso queste pagine lei intende lasciare loro? Il messaggio è che bisogna imparare ad amarsi, imparare a lasciarsi, ma soprattutto una cosa inderogabile è rispettare i figli, che sono quasi sempre le vittime consapevoli di queste tragedie familiari. Grazie, noi ci fermiamo qui, grazie a Gianetto Leghessani per essere stato con noi, a tutti l'augurio di una serena notte. Grazie a tutti.